Maso fu da Calandrindo mandato dove queste pietre così virtuose si trovassero. Maso rispose che le più si trovavano in Berlincone, terra dei baschi, in una contrada che si chiamava Benglodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce e avevasi un'oca a denaio e un papero giunta ed era di una montagna frutta di formaggio parmigiano grattugiato sopra la quale stavano genti che in un'altra cosa facevano che fare macchioni e ravioli e cuocere l'imbrono di cappone e poi città quindi giù e chi che ne pigliava più se ne aveva. E ne persi conneva un fiumicel di vernaccia della migliore che mai si bebbe senza aver dietro gocciola d'acqua. Oh, disse Calandrino, con questo è un buon paese, ma dimmi, che si fa dei capponi che cuoce un colore? Rispose Maso, mangiaseli, i baschi, tutti. Grazie. Grazie.